Una competizione tra idee per il rilancio della città di Teramo, presentata a Teramo la sesta edizione di White Information, il meeting delle idee, premio Bruno Ballone, organizzata dal gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Teramo, in collaborazione con il Comune e l'Università di Teramo. Un premio che rilancia la Teramo attraverso le idee? Sì, esatto, questa è un po' la finalità e la mission che ci ha spinto a organizzare questa sesta edizione del White Information, abbiamo pensato che la città che di per sé ha dei grandissimi pregi e peculiarità ha necessità comunque di essere un po' rilanciata e perché no, quindi attraverso un meeting delle idee che proprio andiamo a chiamare un po' tutta la cittadinanza, a mettersi in gioco per rilanciare questa nostra Teramo. Per cui il 14 giugno ci sarà il meeting delle idee, cioè proprio la manifestazione in cui andremo proprio a analizzare le idee che sono pervenute e attraverso poi una commissione di valutazione verranno valutate e decreteremo la vincente. Chi potrà partecipare? E questa è la cosa interessante, tutti potranno partecipare anche a prescindere dall'età, da qualsiasi associazione, scuole, persone fisiche. Si parla di idee, di innovazione, si parla di futuro ed è assolutamente la linfa vitale che noi dobbiamo iniettare all'interno della nostra città in un momento di grande difficoltà, ma in un momento in cui la sinergia che siamo riusciti a costruire come istituzioni, cioè il Comune di Teramo, c'è l'Università e c'è Confindustria, giovani in particolare, proprio per dare una spinta forte partendo dall'innovazione, partendo dalle idee e poi consentitemi un ricordo dell'amico scomparso qualche anno fa, Bruno Ballone, che non dimenticheremo mai. Anche l'Università di Teramo in prima linea al White Information premierà le idee vincenti con l'iscrizione gratuita ad un corso di laurea. Abbiamo pensato per l'idea migliore o il pool di idee migliori di dare la possibilità di un'iscrizione gratuita ad un corso di laurea o triennale o magistrale, oppure se sono già laureati ad un master. Quindi utilizzare ancora una volta la chiave della formazione per migliorare e stimolare ancora progettazione di idee.